Questa è una foto del 1946. Esatto, è una foto molto importante perché dopo l'apertura, la ripresa dello scottismo a Piacenza, ufficialmente c'è stata questa grande festa con tutti i ragazzi che allora avevano aderito. La parete di una stanza non basterebbe per contenere tutti gli scatti degli scout che vedono tra i protagonisti Luigi Menozzi, anima del movimento del quale fa parte da 70 anni. Il suo attivismo è stato premiato dai canonici della Basilica di Sant'Antonino che hanno deciso di assegnargli l'Antonino d'Oro 2014 come segno di stima e gratitudine per il lavoro svolto nell'ambito dell'educazione intesa come promozione dello sviluppo integrale della persona. Le prime sensazioni è come quando Don Giuseppe mi ha chiamato per dirmi abbiamo intenzione di darti l'Antonino d'Oro ma lo diamo a tutto lo scottismo dico io perché attraverso lo scottismo sono arrivato l'Antonino d'Oro. C'è una dedica quindi per questo premio? Sì, io questo premio lo condivido assieme a tutti i ragazzi, a tutti i capi assieme a tutte le persone che hanno con me portato avanti in questi anni questo servizio educativo e poi lo destino in modo particolare a tutti quegli scout che hanno ripreso dopo il fascismo il scottismo a Piacenza. Nato a Piacenza nel 1927 sposato con Maria, padre di tre figli, nonno di otto nipoti Luigi Menozzi è geometra che tra i vari incarichi ha ricoperto anche quello di dirigente dell'ufficio De Manio e Territorio del Comune. Il resto del tempo è stato dedicato agli scout da segnalare in particolare l'impegno per i ragazzi sordomuti e per quelli senza famiglia. Come mai è così attuale anche oggi lo scoutismo? Qual è il messaggio che porta? Ebbene, è un messaggio di fraternità, di amore, di comprensione, di condivisione, di ideali cristiani. C'è qualcosa che vuole dire proprio ai giovani oggi? Beh, io vorrei che mi aiutassero ancora un po' ad andare avanti. Il premio verrà consegnato il 4 luglio in Basilica durante la messa per il patrono Sant'Antonino. Grazie! Grazie